va ora in onda dentro la notizia a cura di manuela gaio ritorna in libreria il professor fulcio bortot fulcio bortot è il nostro ospite di oggi benvenuto grazie allora ultima fatica letteraria che ha un nome che lo lascio dire a lei sì più che fatica letteraria e fatica e basta allora pedo al taccón del bus uno dei tanti modi per per definire questo proverbio poi ne parleremo parliamo anche dopo della definizione di questo perché ha scelto proprio questo proverbio come titolo del del libro no sì in realtà non è farina del mio sacco perché io ho insistito tanto con l'editore perché mio titolo iniziale era plavis magistra plavis magistra cioè il piave insegna la piave insegna e l'editore mi dice io stampo i libri ma dopo li stampati vorrei anche venderli con un titolo così non lo compra nessuno perché dice è per pochi questo non va bene allora dice mi arrangio io trovo io qualcosa che va bene e io mi sono adattato perché bisogna adeguarsi a chi è più forte l'editore più forte dello scrittore quindi va bene forse aveva ragione lui perché vedo che tanti lo acquista poi sono contenti di prendere la mia domanda come nasce un libro del genere anche perché credo sia proprio una fatica come diceva lei inizialmente no sì allora i miei libri e anche questo non sono altro che una forma di riconoscenza per quelli che mi hanno messo al mondo e che mi hanno accudito almeno per alcuni anni ma anche adesso quindi i miei familiari insomma i miei avi e raccontare quello che riguardava loro mi sembra un atto di omaggio mi sembra una 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 forma di riconoscenza che io ho verso di loro anche se non ci sono più ma è così ideale e nello stesso tempo faccio da tramite per portare questi valori del passato valori o non valori ma insomma cose importanti del passato a chi viene dopo di me alle nuove generazioni in particolare alla mia famiglia e poi via via a tutti gli altri leggevo che sono 1332 proverbi e modi di dire sì quindi credo che che abbia iniziato presto a raccogliere tutte queste cose c'è un lavoro che ha iniziato a monte non si può improvvisare si inizia parte parte da lontano poi diciamo che sono 1332 mi sono accorto ed erano questi che ho raccolto e qualcuno mi ha suggerito ma togli ne uno perché 1331 è più bello perché si legge anche a rovescio questo è vero e ho detto no che non lo tolgo no devono restare allora partono dall'infanzia e qua nel mio libro si dice come come è nato questo input quindi merito è di mio nonno paterno che lui era molto amante del vernacolo cioè del dialetto locale del dialetto rurale proprio dei contadini insomma del popolo minuto e ne ho raccolti messi da parte non ci ho pensato ma dico va beh mio nonno devo badare a lui pensavo da piccolo poi quando si diventa nonni si dice ma va forse aveva ragione poi è capitata sta disgrazia di questo virus ho tirato fuori un po' dei scartoffie stando a casa e ho visto che c'era una raccolta di proverbi che proprio da quando ero piccolo della mia famiglia e un po' la memoria si è messa in moto e ho visto che ne avevo alcuni poi ho chiesto in giro sempre nell'ambito familiare insomma sono arrivato a 7 800 dico ma non sono proprio tanti perché poi studiando un po' vedo che i proverbi veneti uscirono tra i 10.000 e i 15.000 dico per 7 800 è una miseria allora ha fatto una ricerca che parte dalle focili no dalle sorgenti della piave la piave prima di danunzio la piave era al femminile poi è diventata il piave tra il danunzio e tra il piave mormorò e queste cose è diventato maschile ma per i vecchi sempre la piave quelli nati prima del 1915 diciamo così tutti quanti ho sempre sentito dire la piave dico sono partito da lassù ho come si dice distribuito volantini in tutte le osterie no tutte magari in alcune osterie sia della sinistra che della destra piave osterie panifici e anche biblioteche comunali diciamo la risposta più più proficua è arrivata proprio dalle osterie perché è lì che ci sono gli vecchiotti disinibiti se hanno bevuto un bicchiere e tra storielle e proverbi inediti perché a me serviva questo non quelli che già troviamo nei libri volevo proverbi che dopo una buona metà sono quelli noti d'accordo però tanti nessuno li ha mai sentiti e proprio erano quello che restava delle robe vecchie e il mio intento era quello partendo dalle sorgenti del piave quindi da sappada sono arrivato a cortellazzo era clea insomma una volta a destra una volta a sinistra della piave tutti i comuni limitrofi li ho diciamo setacciati ho impiegato un po di tempo distribuendo volantini lasciando il mio numero di telefono e il mio indirizzo diciamo di posta elettronica e il volantino diceva così sto raccogliendo proverbi modi di dire e soprannomi specialmente del lontano passato e poco conosciuti diffusi nelle aree del fiume piave dalle sorgenti sino alla foce un grazie a chi vorrà collaborare a questa mia iniziativa scrivere eccetera eccetera il mio indirizzo e ho concluso con un proverbio in tutti se fa tutto naturalmente il proverbio in dialetto grazie è il mio nome fatto questo raccolto questo impiegando mesi e mesi le risposte sono venute sono arrivato appunto a 1332 e però volevo scriverli in dialetto e ma quale dialetto dice dialetto veneto tanto c'è il dizionario di come si chiama di boerio me lo son scritto c'è il la grammatica di belloni dico sì ma io non so quelle robe lì e devo imparare da un libro per poi scriverli io no io scrivo quello che so e io so il vernacolo quindi il dialetto locale che va da ponte nelle alpi a limana e impone i dintorni quello parlato tanto tempo fa cioè era di mio nonno il mio bisnonno di quelli insomma il consulente linguistico più giovane che mi ha dato qualche suggerimento è nato nel 29 quindi ha passato il 90 quello il consulente più giovane quello più vecchio era dell'861 che sono riuscito a conoscerlo quando ero piccolo quindi io uso quella lingua lì che è il vernacolo naturalmente ho fatto una fatica cane a trascriverlo perché volevo scriverlo con gli accenti con la pronuncia in modo che qualsiasi persona del mondo che decide di di pronunciarlo alla maniera giusta potesse farlo tranquillamente naturalmente seguendo le indicazioni che ho messo nel libro certo se non segue le indicazioni non sbaglia un accento e non sbaglia nulla insomma volendo dopo la traduzione italiana ovviamente e la spiegazione quella più plausibile dopo ogni proverbio più di una spiegazione ad esempio mi preme il titolo no pedo il tacón del bus si può dire in ben quattro modi c'è chi dice meglio il bus del tacón quindi cambia il significato identico e la connotazione è pessimistica perché pedo il tacón significa tasi che se notte peggiora la situazione meglio il bus del tacón significa la stessa roba a saperder perché quello che è fatto è fatto non mettere però si può anche dire pedo il bus del tacón e quindi questo è un incoraggiamento guarda che è sbagliato ma poi rimediare e ha lo stesso significato meglio il tacón del bus magari aggiusti qualcosa che è sbagliato quindi stesso proverbio detto in quattro modi diversi che si può trovare a Pieve di Cadore come si può trovare a San Donato di Piave stesso proverbio cambia solo in modo di dirlo caspita che poi i proverbi erano le perle di saggezza no una volta venivano proprio presi alla lettera adesso ormai si sentono poco i proverbi dobbiamo dire la verità e questo è un peccato si sentono si sentono quelli diciamo quelli che hanno valore universale certi addirittura mi raccontavano perché i cinesi sono famosi per i proverbi mi dicevano che alcuni proverbi che usiamo qui noi quelli di natura morale ovviamente certo ne cito solo uno non importa di che color che l'elgat l'importante è che sia bravo ci appare i source tanto per dire e questo qui è Ho Chi Minh che lo diceva sempre e Ho Chi Minh non era l'ultimo arrivato poi mi hanno anche detto in termini di proprio per stare in tema di proverbi per vedere se una persona è colta erudita insomma importante in Cina una persona è tanto più importante quanto più si esprime per proverbi se non dice nulla se non citando proverbi a quella le levano il cappello insomma tanto per dire ma perché oggi il dialetto sta scomparendo è una domanda che forse non ha niente a che vedere con il libro però io ogni tanto me lo chiedo mi chiedo perché parliamo anche noi ai ragazzi ai nostri bambini parliamo in italiano ormai il dialetto è stato messo da parte perché? Allora dialetto e vernacolo sono vincenti e hanno un valore sia linguistico che affettivo che nessun'altra lingua ufficiale o di dominio può avere ma c'è un dettaglio che è la lingua della classe subalterna è la lingua dei contadini degli operai dove ci sono tanti valori tanti affetti però se la maglia magra cioè bisogna parlare inglese per far fortuna ora come ora 80 anni fa i tempi di mio nonno bisognava parlare italiano per poter confrontarsi col parroco col sindaco con l'avvocato col medico uno che parla da vernacolo è considerato l'ultimo imbecille e quindi ecco che adesso siccome diciamo così dai valori fondamentali che sono quelli dell'affetto all'amicizia all'amore filiale l'amore coniugale insomma la benevolenza è predicata dal famoso dio trino padre no andando a invadere la religione e adesso con una battuta si dice vince il dio quattrino quindi è ovvio che bisogna avere una lingua che si comprende in tutto il mondo che ci permetta di commerciare di usare i sistemi tecnologici che non ha nulla a che vedere con la ricchezza linguistica né con la ricchezza degli affetti familiari infatti il vernacolo è il il dialetto che si usa in casa che si usa quando viene un colpo di nervoso uno non impreca in inglese o in italiano impreca nel suo dialetto che ha imparato da piccolo se l'ha imparato dopo io vado ancora un po più in là perché sono spudorato nei momenti di intimità diciamo sessuale quando mai uno esprime le sue soddisfazioni in inglese o in perfetta lingua italiana quando mai usa la sua lingua madre che è il vernacolo questo allora non c'è più dialetto perché hanno imposto un valore che supera gli affetti la famiglia ed è la posizione sociale i soldi però in tante comunità comunque anche all'estero tipo in brasilia hanno ancora il talian e lo parlano e loro l'hanno conservato voglio dire continuano a tramandarlo forse adesso sta un po scomparendo anche lì però fino a un po di anni fa loro ci tenevano a conservare proprio le loro radici no e continuavano a parlare questo talian e avevano anche dei modi di dire di parlare che io non conoscevo dei termini perché noi li abbiamo persi strada facendo loro invece li hanno conservati e sono fieri loro non ti parlano italiano ti parlano in dialetto questa è una ricchezza è la nostalgia della patria per forza adesso faccio un paragone non so se ci sta tanto o no ma il papa continua a parlare latino eppure il latino scomparso tanti anni fa no tanti secoli fa e quindi appunto la ricerca della radice il cristiano ha bisogno di cristo e gli italiani in argentina in brasile ha bisogno dell'italia nel loro cuore e quindi ecco che è quello che dicevo prima no la lingua imparata da piccoli rappresenta i nostri affetti i nostri genitori parlavano con noi con la loro lingua che era il vernacolo e ci è rimasta quella il punto di forza è rimasto quello sì a questo proposito se 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 si trova ecco una sintesi del una sintesi mi permetto provo a fare io sono negato ma provo lo stesso è è una piccola scenetta che serve a capire la trasformazione sia linguistica sia nei rapporti familiari ed è una scenetta così allora faggio il narratore un bambino sta giocando in cortile tra le pozzanghere lo richiama suo padre e allora giovanni smettila di giocare di inzaccherarti e di sciupare tempo in vano il tono del padre è addirato impaziente quasi ostile la lingua è un impeccabile italiano il bambino nemmeno sente le parole del padre allora ci prova il nonno e allora nani fa la finita di dugare di infangarte e di perdere tempo a niente l'atteggiamento del nonno è più umano più tollerante e benevolo la lingua è il dialetto il bambino sembra aver udito si ferma un attimo si guarda intorno ma poi riprende il suo gioco e infine interviene il bisnonno il tono del bisnonno è pagato comprensivo anche affettuoso condiscendente e la lingua è il vernacolo il bambino interrompe il gioco osserva il bisnonno sorride ed obbedisce volentieri ecco qui si capisce la trasformazione in poco più di mezzo secolo nella lingua dell'atteggiamento e dell'importanza per il bisnonno il gioco del nipotino era importante per il padre è una del tempo e questo dice tutto no sì allora sono rimasta molto colpita anche perché c'è un capitolo dedicato ai soprannomi anche questo è un lavoraccio credo sì molto più divertente però perché diciamo così volevo completare questi proverbi con qualcosa di inerente di omogeneo e siccome nei tempi passati l'abitudine era quella di affibbiare un soprannome un po' tutti quanti e anche un sopracognome tipo il mio ma qui mi sono dedicato solo ai soprannomi che è più facile per identificare la persona attraverso il lavoro che faceva oppure il carattere oppure l'aspetto fisico e naturalmente erano soprannomi dati dagli altri qualcuno anche un po' pesantino non erano tutti simpatici perché chiamare uno Tony Rapina perché aveva la mano un po' lunga che piaceva a rubare il grano turco degli altri non era proprio un complimento allora qui si può fare il paragone cosa succedeva allora e cosa succede adesso allora erano gli altri che ci davano il soprannome e aveva un che diciamo di 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 poco di poco raffinato anche si andava anche sul volgare adesso invece ci diamo noi stessi il nickname il nickname che invece serve a promuoverci a farci più belli uno mette io ad esempio quando lo uso per darmi un tono mi chiamo caifa il gran sacerdote e quell'altro dice Teresa Bellina insomma tanto per dire insomma ce lo diamo da soli e cerchiamo di valorizzarci ecco la differenza tra allora questi soprannomi essendo proprio lo specchio dei rapporti sia in osteria che in casa e quasi sempre sono soprannomi indovinatissimi ma anche divertenti perché se uno va a vedere da dove saltano fuori la risata è assicurata no? e allora ho pensato mettiamoci anche questi ne cito uno ma ho aperto a caso Davide Sniapa Davide Sniapa la Sniapa e la Grappa i casi sono due o era quello che produceva la Sniapa o era uno che gli piaceva la Grappa e c'era quell'altro che invece si chiamava Nani Sniapa che era ubriaco la mattina e la sera dopo Iacinto Naranza Iacinto Naranza naturalmente faceva il fruttivendolo Naranza vedeva Naranza dopo c'è un'altra ma questa è abbastanza recente Paolini STL dice cos'è sto STL? eh STL sono l'iniziale Paolo sa tutto lui Paolini STL e dopo ce ne sono dei volgarissimi questo è stato un capitolo divertente secondo me sì sì ma anche per me a trascrivere poi perché alcuni di questi li ho anche conosciuti di persona altri sono venuti dal Cadore appunto da 90 di Piave e dalla Bassa insomma Ernesto Colombaia è chiaro come il sole che mestiere faceva sì insomma no si dedicava al cimitero no questa Maria Tetona lasciamola stare perché non sta bene beh abbiamo capito sì 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 Lino Mortadela Lino Mortadela aveva il negozio di salumi tanto per dire che carino però eh ma dove possiamo trovare questo libro in vendita? nelle librerie? in tutte le librerie? mi dice l'editore che lui li ha distribuiti nel distributore diciamo veneto e quindi si trova in tutte le librerie e anche nelle come si chiama? nelle edicole e anche nelle cartolerie talvolta naturalmente bene o male in casi estremi uno si rivolge anche a Amazon così lo trova in tutto il mondo certo la mia domanda era questa perché abbiamo tanti connazionali che ci seguono e che magari vogliono comprare il libro perché sono molto legati alle loro radici e questo lo vedo proprio un libro che arriva al cuore e di conseguenza mi chiedevo come potevano fare per averlo quindi basta andare su Amazon? sì in Amazon c'è sì perché spedirlo costa più la spedizione del libro insomma chi se lo fa Amazon sta raccogliendo ancora dei proverbi oppure questo si chiude? no io ho chiuso perché ho fatto una faticaccia e ne valcia la pena perché sono tutti contenti compreso sì gli addetti ai lavori sì ma anche i consiglieri regionali insomma tanti ci sono fatti vivi perché lo ritengono un lavoro importante per la tradizione per insomma un sacco di motivi e di quello va bene però continuare non è il mio mestiere nel senso che io ho fatto il ricercatore diciamo per caso è troppo faticoso per me non sono uno studioso è stato un diversivo perché io ho sempre scritto robe completamente diverse e qua ripeto l'ho fatto diciamo così per dovere insomma verso i miei e verso chi verrà dopo come si dice è un libro scritto con la testa scritto con la ragione scritto col cuore comunque non tanto nel senso è chiaro che un po' di cuore c'è sempre però rispetto agli altri a quelli che piacciono a me che sono scritti con il sangue diciamo fatti di emozioni fatti di e sono unici perché quello che dico io lo posso dire solo io dopo un altro lo dirà molto meglio ma dice il suo questo invece ripeto se uno ha voglia di tirarsi su le maniche e lavorare come un dannato e ricercare insomma sudare e quindi è proprio un lavoro diciamo di manovalanza con una certa diciamo così con un certo vissuto perché se io non avessi passato insomma una fetta della mia vita nel mondo rurale certe cose non potrei non potrei capirle quando il proverbio quello molto ce ne sono tantissimi legati alla terra legati al tempo legati alla religione ai santi cioè qui ogni pagina troviamo tre santi almeno e quello ci preserva dalla grandine e quell'altro che ci fa maturare le nocciole cioè ogni paese tirava fuori il suo santo su san valentino ad esempio che quello diciamo internazionale ce ne sono cinque o sei a san valentino la neve la sgoba il cammin a san valentino fioriscono le spine a san valentino ogni valentina la cerca il suo valentino tanto per dire e dopo qual è quell'altro a san valentino la primavera la everything e quindi quello non è il santo diciamo di belluno è il santo di tutta italia perlomeno ma anche in giro per il mondo forse io credevo magari che ci fosse un seguito no ci fosse un secondo capitolo ma da come mi ha fatto percepire credo non ci sia no forse serve incoraggiare qualche altro che vuole che vuole continuare però il senso diciamo così anche se il numero non è dico proverbi veneti dicono che ce ne siano dai 10 ai 15 mila quindi questo ci sono un mille vuol dire un decimo no però dando a vedere più o meno si ripetono il santo cambierà il nome del santo ma il senso alla fine è quello quindi non sono tantissimi però 1332 quando uno li ha letti tutti ha un'idea di come funzionasse il vernacolo che non è il dialetto perché il dialetto ha la sua grammatica e i suoi manuali ha il suo lessico preciso il vernacolo cambia di paese in paese e io perché l'ho scritto mi hanno chiesto in tanti ma perché proprio il vernacolo e io ho sempre detto perché io scrivo quello che so quindi è diciamo il dialetto che so non posso parlare quello scrivere quello di Vittorio Veneto o di Treviso o di Pieve di Cadore io so il mio per questo ho scritto in tanti io ogni tanto mi sento anche di ringraziare la pandemia perché durante la pandemia sono successe tutte queste cose tante persone hanno messo mano nei loro cassetti hanno ripescato tante cose e poi le hanno scritte le hanno riportate cioè cose che avevano accantonato le hanno prese proprio durante la pandemia e sono uscite veramente delle grandi cose come è uscito anche questo libro che è davvero molto bello e interessante che è uno di tre che sono riuscito a fare in questi tre anni quindi tre libri sì sì e uno dei 600 pagine tra l'altro che deve ancora uscire come si intitola possiamo già saperlo in anteprima vediamo se riesco a convincere l'editore perché finché si diciamo si va su un libro di media grandezza come questo diciamo sulle 300 pagine sul mezzo chilo perché la cultura va anche a peso ma quando si va a un chilo e cento perché l'ho pesato quello dove i contenuti sono totalmente differenti ma proprio non tanto popolari un po' spudorati perché era nato come sceneggiatura per il maestro Tinto Brass quindi pensate un po' maestro che è il re del cinema erotico italiano dopo la moglie è morta lui si è ammalato e tutto è caduto e allora ho trasformato questa sceneggiatura in 12 novelle per mantenere la dicitura boccacesca sono 12 novelle abbastanza corpose dove si toccano tutti i temi del sentimento in maniera anche spudorata volendo però prevalentemente fanno pensare molto e magari turbano e magari leggendo si può provare piacere ma anche riflettere molto c'è poco da ridere qui c'è tanto da ridere in questo e l'altro invece è tutt'altra cosa sono completamente diversi due cose completamente diverse certo e niente quando parlava di novelle mi è venuto in mente Verga che anche lui aveva scritto le novelle e quindi anche lì comunque c'è tanto da pensare perché ancora oggi se leggiamo il testo di Verga cioè sempre attuale fuori dubbio poi quelle quattro chiacchiere che ho fatto con i veri grandi della letteratura io come si dice sono il dilettante dei dilettanti ma non è vero questo non è vero sì sì sono quello che ha cominciato a leggere dopo i 50 anni però ho conosciuto due persone sopra le righe e due galantuomini di primo livello uno era Mario Rigoni Stern che poi sono diventato diciamo di casa e l'altro a Carlos Gorlon quello di Udine persone che conosciute in tutto il mondo sono state candidate per il premio Nobel dopo l'ultima che ho conosciuto però purtroppo per mille motivi tra cui linguistici perché io di inglese sono negato è la famosa Edna O'Brien quella irlandese che è anche quella candidata per il Nobel ecco quelle ragazze di campagna cioè i classici allora queste persone io molto più giovane per fortuna mi hanno sempre detto ascolta non leggere quelle robe che ci sono adesso che perdi tempo ma lo diceva anche Flaiano eh tanto per città anche Umberto Eco quindi parlo di persone che la sapevano lunga non come me che non so niente io ho sempre fatto diciamo l'educatore quindi sono lontano dalla letteratura appunto è un mio hobby questi mi hanno detto ci sono un centinaio di classici parti da Erodoto parti da Esiodo da quelli là dal Vecchio Testamento e arriva fino ad Annunzio insomma o poco dopo perché dopo no fino a metà del Novecento ci sono bravissimi Moravia Pasolini non occorre mica certo dopo stando nel locale ad esempio uno trascuratissimo che per me tutte le volte mi indumidisce gli occhi e nessuno lo conosce è Luigi Tatto Luigi Tatto di Feltre classe 1914 che ha fatto la guerra d'Africa con mio padre tra l'altro questo ha scritto stelle sul grappa che se uno vuole capire la prima guerra mondiale come si è svolta qui da noi legge stelle sul grappa di Luigi Tatto un semplice maestro elementare eccezionale un altro suo Passerotti senza nido quello dalla prima all'ultima riga tocca piangere perché ha una capacità talmente forte di raccontare come vivevano questi bambini che sono scrittori degni di Saviane degni di Castellanetta di quelli grandi insomma allora questi grandi mi suggerivano leggi i classici passati 5-6 anni torna a rileggerli e io faccio così io faccio così è inutile quando io ho letto Platone ho letto metà roba e poi tutti gli altri c'è un'altra metà insomma cioè è stato già scritto tutto quello che vale quello che non vale nulla va bene quello possiamo leggerlo dal dentista in treno ma giusto così ecco no per dire chi è di valore e chi invece è un dilettante insomma ecco comunque io per abitudine un libro lo leggo sempre due volte perché la prima volta lo leggi e poi quando lo rileggi ritrovi delle cose che magari avevi sorvolato perché non è oppure perché sei troppo veloce nella lettura ti perdi dei passaggi leggendolo due volte dice però questo non me lo ricordavo e quindi due volte è sempre un libro sì sì anche il mio stile la prima volta velocemente per vedere che roba è la seconda volta con la matita in mano perché ci sono dei punti dice sempre per citare Flaiano dice il vero lettore è quello che quando ha letto un libro non solo lo rilegge a distanza di tempo ma quando l'ha finito un po' è cambiato è cambiata la sua personalità e il suo modo di vivere allora il libro è servito se invece è rimasto come prima vuol dire che ha perso tempo io professore la ringrazio anche perché ci ha dato dei buoni consigli di lettura quindi a buon intenditor poche parole per rimanere nell'ambito dei proverbi la inviterei quando esce il nuovo libro a ritornare a farci visita questo fuori dubbio se mi permette certo perché Mimmi come dicevo prima io sono quello che disorganizzato al massimo salto da palo in frasca voglio dire parlando dei proverbi andiamo a Sofocle un breve detto spesso contiene molta saggezza e Sofocle non è proprio l'ultimo arrivato andiamo ai recenti Bertrand Russell il proverbio è l'ingegno di un uomo in questo caso direbbe a me è la saggezza di tutti l'ingegno di un uomo in questo caso mio che ho saputo tirar fuori quello che c'era già io non ho inventato nulla l'ho messo solo insieme ecco è riferito a questo libro ma come a tutti i libri però in particolare questo se si vuole capire fino in fondo e avere dei diciamo dei vantaggi acquisire un po' o di divertimento o di ricchezza quello che viene dico sempre che bisogna leggere dalla copertina quindi il mio nome non c'entra però il titolo già dice qualcosa il sottotitolo anche la spiegazione l'immagine significa qualcosa poi andiamo anche in quarta di copertina che ha una fotografia che questa è bellissima vorrei essere io quel signore lì che ha raggiunto la pace col bicchiere in mano vabbè e dopo e dopo quello che c'è scritto nella prefazione a volte anche la dedica ad esempio volevo conoscere bene che animo avesse Enzo Biagi Enzo Biagi mi è stato tanto simpatico vado a vedere leggo alcune cose e vedo le dediche sue le sue dediche sono sempre per la sua famiglia una volta la moglie una volta fratello cioè sempre roba di famiglia quindi mi ha emozionato dico fa come me anche lui che dedica le sue cose alla famiglia dico la prefazione è importante se è fatta bene non è il riassunto di un libro ma è un incoraggiamento a leggere le note dell'autore sono fondamentali per per approcciarsi alla lettura e in questo caso siccome è vernaco io ho fatto anche la guida alla lettura per la pronuncia perché certe parole che sono scritte che non c'è nessuna regola l'ho inventata io al momento per pronunciare la F come diciamo noi per dire fariese non possiamo dire la F degli anglosassoni o la F di Barcelona degli spagnoli la nostra F è diversa ancora allora ho specificato la lingua va messa così allora uno capisce fino in fondo poi c'è l'indice per argomenti non c'è l'indice tradizionale è un lavoro certosino comunque questo lavoraccio qua dico ho fatto per argomenti dico il lettore comune apre a caso e si diverte a leggere e finita lì ma se fosse uno studioso o uno che vuole fare una tesi come fa non può studiarselo tutto e dice ad esempio mi interessa i lavori agricoli i lavori di casa solo quello ecco che tutti i numeri di proverbi che riguardano i lavori di casa d'agricoli sono raggruppati per tema e questo è il tema per facilitare tempo cronologico vino grappa e loro apologia anche si perché si parla spesso delle bevande e poi la postfazione di cos'è la postfazione quando uno ha letto un libro non nel caso di questo ma in generale quando uno ha letto un libro amerebbe confrontarsi con qualcuno immediatamente per vedere come la pensa uno che l'ha letto a fondo nella postfazione è il primo interlocutore che troviamo dopo la lettura e quindi anche quello è importante anche se a volte è strascurato ho messo un piccolo vocabolarietto alla fine per i termini che ho usati sono 300 parole mi pare e poi e poi basta finito qua bene è un bellissimo libro che non può mancare nelle nostre librerie domestiche speriamo e che poi resterà sicuramente come indelebile anche per le nuove generazioni speriamo è divertente di sicuro l'unico attributo che do è divertente perché uno apre vede una parola Ilaria la sanguinaria dice cos'è questa che è chiesta qui naturalmente devo dire che qui ci sono anch'io come soprannome ma certi per non offendere per non insomma un minimo di delicatezza o ho cambiato nome o ho cambiato situazione insomma per non per non dare anche se quasi tutti non li conosco e non sono viventi però per rispetto chi resta ho inquinato mi sembra corretto grazie professor Fulcio Bortot per essere stato con noi è stato un vero piacere grazie a voi grazie mille e alla prossima avete ascoltato dentro la notizia a cura di Manuela Gaio